Siamo ad Aielli, un borgo medievale nella Marsica Abruzzese, luogo fuori dal tempo che si è rivelato innovativo e lungimirante perché è un paese che ha deciso di investire nella street art e nell'arte. A due anni a questa parte sono stati realizzati 15 murales, nel 2019 per l'edizione di quest'anno realizzeremo altri 5 murales, uno che vediamo alle mie spalle dell'artista Cuda San Michele, un artista internazionale di fama mondiale. L'obiettivo è quello di far diventare il borgo un museo a cielo aperto, che quindi si può visitare 365 giorni all'anno. Allo stesso tempo la rassegna di Borgo Universo ogni estate attirerà persone da tutto il mondo per una quattro giorni di musica dal vivo, performance, installazioni, teatro e audiovisual all'insegna dell'arte e del divertimento. Questo format sta davvero trasformando il luogo, attirando turisti da ogni parte e valorizzando tanti spazi che versavano in uno stato di semiabbandono. Il borgo medievale di Aielli è raggiungibile tramite l'autostrada 25 uscita a Iellicelano.